Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite giovedì 26 settembre 2024 siamo qui per vedere come sempre, come ogni mattina, una mappa creativa per livellare velocemente il pass battaglia ma soprattutto per sbloccare la skin di Felina. Se volete supportarmi questo è il codice creatore da inserire nello shop giornaliero e ora andremo a vedere insieme come sbloccare Felina in pochissimo tempo mi mancano solo 12 livelli in meno di 30 ore il codice della mappa quindi che andremo a vedere oggi 1,5,6,6,2,5,8,4,2,6,7,2 secondo me la mappa clean 1v1 è la mappa di questo capitolo 5 stagione 4 di Fortnite perché si fanno tantissimi punti XP versione 45 startatela in modalità partita privata qui sopra trovate il tasto timer da attivare sopra la macchinetta automatica poi scendiamo giù nell'arena andiamo dietro il cavo e attendiamo lo scadere del timer un'altra scaduto recuperate le chiavi che si trovano qui in questa posizione get power cell prendetene una decina fatto ciò andiamo a vedere dove si trova la prima secret room di questa run 3 livelli faremo e i primi punti XP li troviamo qui due rampe, otto basi tasto secret e andiamo a vedere il primo secret XP button quindi saliamo le scale ultimo piano e dove c'è il raccoglitore lo schedario qui abbiamo il primo tasto XP lo attiviamo e subito anzi prendiamo il 2x speed e andiamo a vedere la seconda secret room vediamo il rampino che potrebbe tornarci utile che ce lo siamo dimenticati prima centro qui 7 rampe e poi 5 basi ok poi 5 basi verso il centro tasto interagisci e prima primo tasto XP lo troviamo dentro questa casetta qui nell'angolino a sinistra eccolo qui lo attiviamo e poi andiamo a vedere il secondo secret XP button che si trova sopra il tetto quindi saliamo con lo strampino saliamo sopra il camino e qui abbiamo il secondo glitch da attivare scendiamo giù andiamo a vedere la terza secret room qui dove c'è il back to spawn 3 basi e poi 7 a sinistra 1 2 3 e poi 7 e qui abbiamo il tasto interagisci tanto prima dei lì completata primo XP button saliamo le scale saliamo le scale qua a sinistra su 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 qui giriamo a sinistra a destra e qui ci sono i tre barili eccolo qui eccolo qui secret XP button lo attiviamo e ora andiamo a vedere la terza secret room torniamo dove c'è il cavo 4 rampe 6 basi quindi da qui 1 2 3 4 seconda di lì completata e poi 6 basi 1 2 2 3 4 5 e 6 tasto interagisci e andiamo a vedere il primo secret XP button saliamo le scale saliamo 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 porta rampino qui nell'angolo perfetto saliamo la scala e qua dove c'è il baule primo dei tre secret XP button andiamo a vedere il secondo riattiviamo il 2 per speed terza daily completata 709 signori 709 livelli in 6 settimane rientriamo nella terza secret room andiamo a vedere il secondo quindi saliamo saliamo ancora saliamo la scala giriamo 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 e qui abbiamo il secondo secret glitch button andiamo a vedere anche il terzo quindi riscendiamo giù rientriamo per la terza volta nella secret room andiamo a vedere dove si trova il terzo secret glitch button qui a destra scendiamo le scale sinistra porta e qui abbiamo il terzo tasto di questa terza secret room scendiamo giù chiudiamo la run con la bouncer che si trova esattamente in questa posizione detto ciò fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono e le live serali detto ciò spolliciate senza ritegno mi raccomando un bel pollicione lì in su noi ci vediamo stasera in live così prendiamo la skin felina insieme ciao ciao